Oggi preparo le orecchiette e le cime di rapa, che sono un classico della cucina pugliese. Le rape ovviamente sono l'ingrediente principale. Dobbiamo scegliere un mazzetto che contenga molti germogli e foglie tenere. Dopo aver lavato le rape, separo le foglie grandi, che metto sulla destra, le foglie più tenere e germogli, che tengo al centro, e i gambi, che appoggio in alto. I gambi non si usano, mentre le foglie grandi le possiamo adoperare per fare un contorno di rape. Sarà sufficiente saltarle in padella 5 minuti con un po' di olio e uno spicchio di aglio. Taglio in maniera grossolana le foglie tenere e i germogli. Sono la sola parte delle rape che utilizzo per questa ricetta. Pulisco 3 o 4 spicchi di aglio, che lascio in pezzi grossi perché tanto poi andranno levati. Infine preparo 4 o 5 filetti di acciuga. Nel frattempo ho portato l'acqua ad ebollizione e butto 200 g di orecchiette secche, che cuociono in 14 minuti. Ho salato l'acqua come al solito. Mentre le orecchiette cuociono, in una padella scaldo un po' di olio di oliva. Metto l'aglio, un po' di peperoncino e i filetti di acciuga. Regolo la fiamma al minimo e lascio che i filetti di acciuga si disfino. Quando mancano 7 minuti alla cottura della pasta, aggiungo nella stessa pentola le cime di rapa e poi mescolo accuratamente. Quando l'aglio si è imbiondito, spengo il fornello sotto la padella. Levo l'aglio che butteremo via. Le orecchiette devono essere cotte al dente, ma non troppo. Quando sono pronte, metto alcuni cucchiai di acqua di cottura nella padella ed accendo nuovamente il gas. Scolo le orecchiette e verso il contenuto nella padella. Lascio mantecare alcuni minuti mescolando continuamente finché il liquido non si sarà assorbito, le rape non si saranno disfatte e si sarà formata una cremina grazie all'amido della pasta. Quando tutto ciò è avvenuto, le nostre orecchiette e le cime di rapa sono pronte. Possiamo metterle subito nel piatto e gustarci un piatto sano, di grandissimo sapore ed economico. Grazie a tutti.